I sigilli dei carabinieri attorno alla struttura mobile e l'incredulità dei cittadini presi dal clima della festa ha riportato solo delle ferite non gravi. Il ragazzo che nella serata di domenica è stato sbalzato fuori da una giostra durante i festeggiamenti per la Madonna del Pozzo di Capurso. La macchina per spettacoli viangianti è stata sottoposta a sequestro per essere a disposizione dell'autorità giudiziaria che in queste ore ha ordinato l'esecuzione di tutte le verifiche. Per ricostruire la dinamica dell'incidente, la War Machine, nota tra i giostrai come zatterone, è dotata di un impianto di bloccaggio di sicurezza pneumatico che non consente l'apertura dei fermi quando il mezzo è in movimento. Di qui i dubbi su come sia potuto sfuggire dai sistemi di sicurezza il ragazzo, un giovane del posto di neanche 18 anni. Trasportato all'ospedale di Venere di Carbonara non è in pericolo di vita. Un esito, possiamo dirlo, quasi miracoloso vista la tipologia della giostra e vista la caduta. Lo scorso luglio un altro incidente simile era accaduto a Gallipoli, anche in quel caso due ragazzini erano rimaste feriti.